Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video C'è stato un momento di pausa sul mio canale dovuto alle ferie ma adesso riprendiamo con i video regolarmente ogni settimana In questo video volevo parlarvi non di un'applicazione per telefono per guadagnare ma bensì un metodo che sto utilizzando e mi sta portando qualche soddisfazione Questo a differenza delle applicazioni che ho portato sul mio canale per il telefono vi può portare sul vostro console, sulla vostra carta dei soldi dei veri e propri soldi e poter spendere come voi volete ovviamente Per fare questo genere di attività non serve nessuna conoscenza particolare quindi adesso vi racconto qual è la mia esperienza e come sto utilizzando questo sito per guadagnare dei soldi Io sto utilizzando ebay per vendere dei prodotti diciamo delle cose che voi non usate più diciamo che questo è lo scopo ovviamente se andate a vendere costantemente stock di prodotti lì entriamo già sul particolare di partita IVA però se noi lo utilizziamo occasionalmente per vendere degli oggetti che noi abbiamo a casa e non lo utilizziamo più allora possiamo appunto guadagnarci qualcosa come ho detto prima non servono particolari competenze infatti vi basterà avere l'oggetto, fargli la foto, caricare l'annuncio su ebay ovviamente un buon annuncio articolato per ricevere subito le prime visite e quindi avere più opportunità di vendere questo prodotto qualcosa che voi non utilizzate più quindi diciamo che io sto utilizzando ebay per vendere un sacco di cose che ormai non utilizzo più perché diciamo al giorno d'oggi le nostre case sono piene di cose che magari abbiamo comprato e non utilizziamo più di conseguenza possiamo venderle e ricavare dei soldi a differenza di subito su subito magari è un contatto più persona a persona su ebay possiamo vendere in tutta Italia offrendo la spedizione magari il carico dell'acquirente di conseguenza quando noi riceviamo l'ordine che viene comunque gestito da ebay quindi è una cosa sicura ci vengono manchi soldi direttamente da ebay sulla nostra carta dopo qualche giorno in modo completamente sicuro non dobbiamo assolutamente preoccuparti di imballare il prodotto e andare a spedirlo potete spedirlo con le poste o con tutti i servizi online questo poi è discrezione vostra ma comunque volevo raccontarvi diciamo quello che sto facendo ultimamente appunto per guadagnare qualche soldo in più quindi io utilizzo ebay ho caricato un bel paio di annunci mi è capitato anche di comprare magari che ne so robe dalla Cina che magari dopo dico vabbè mi viene il pallino e lo compro dopo magari lo tengo lì nel cassero che faccio lo metto in vendita e in pochi giorni sono riuscito a vendere parecchie, parecchi gadget che avevo comprato diciamola così da poter poi rinvestire ovviamente in altre cose quindi questo è il chiamiamolo metodo di guadagno che sto sfruttando adesso per guadagnare qualcosa in più in sostanza quindi differenze di applicazioni che magari ti possono portare come non ti possono portare pochi guadagni o addirittura niente perché alla fine ce ne sono veramente poche applicazioni che ti pagano realmente e se ti pagano ti pagano poco come ovvero tu non abbia una lista di ref assurda che ti genera soldi senza fare nulla e anche un po' più di soldi ma questo diciamo che non è il caso di tutti se è il caso di pochi infatti questo è il sistema questo è il metodo questo è il sito che sto sfruttando per guadagnare qualcosa in più è una cosa semplice alla fine però che non tutti magari pensano di poterla sfruttare o magari dicono no non venderò mai però alla fine c'è molto giro anche su ebay non è solo amazon che ha monopolizzato l'e-commerce online però anche su ebay ci sono molte persone e c'è anche molta probabilità di vendere questo era un breve video per rimettere un po' in luce ebay che non mi sta pagando ovviamente per la sponsorizzazione ma comunque per raccontarvi come genero dei guadagni alternativi dei guadagni passivi con dei siti che tutti conoscono comunque sono dei siti validi ebay è un sito valido e che penso che lo possa fare chiunque quindi il video era questo e volevo semplicemente raccontarvi cosa utilizzo adesso per o comunque ho utilizzato anche in passato perché ultimamente sta girando un po' meglio per guadagnare qualcosina in più e che penso che possa utilizzarla chiunque se il video ti è piaciuto lascia pure un like e iscriviti al canale noi come sempre ci vediamo la prossima settimana con un nuvissimo video ciao 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 ciao